Scuola di Schiatarella, primo giorno con la maglia del Bari, le prime sensazioni? Buongiorno a tutti, le prime sensazioni sono bellissime perché iniziare una nuova esperienza in una società come il Bari è fantastico, quindi farò di tutto per mettermi a disposizione di questo gruppo. Ritrovi Mr. Nicola dopo la brillante parentesi di Livorno, è stato uno dei motivi che ti hanno spinto a scegliere questa maglia? Sicuramente sì, oltre alla passione che c'è per questa città e l'amore per questa maglia anche la presenza di Mr. Nicola per me è stata importante, con lui ho fatto due stagioni importanti e spero di rivedermi qui con la maglia del Bari. Che tipo di giocatore è Scuola di Schiatarella? Uno che non molla mai dal primo minuto fino alla fine. Mr. Nicola dopo questo primo allenamento l'hai trovato come l'esperienza di Livorno? Sempre, il Mr. è sempre uno che non molla di un centimetro, l'ho visto stamattina per la prima volta alle otto e mezza e già era carico a mille e il bello del Mr. è proprio questo. Tu sei napoletano, conosci il calore e la passione dei tifosi del sud, sai che qui a Bari la passione dei tifosi della maglia bianco-rossa è una passione molto caliente. Sì, sicuramente, anche se ho lasciato Napoli a 13 anni e non ho mai giocato in una piazza del sud, però so benissimo il calore che c'è nelle piazze importanti come questa di Bari. Sicuramente qui ogni giorno è pane e calcio, sono felice, infatti sono curioso di iniziare questa nuova avventura. Il Bari arriva da questa prima parte di stagione con tanti alti e bassi, si prospetta un girone di ritorno di tutt'altro tenore. Cosa può dare Schiatarella a questa squadra? Ti ripeto, sicuramente darò tutto, da oggi che sono arrivato fino all'ultimo giorno che sarò qua, sputerò sangue per questa maglia, ma la cosa più importante è resettare tutto, iniziare un nuovo anno con molto entusiasmo e essere tutti positivi. Grazie.